Sei contento? Molto! Un saluto che va così, Romanissi? Cosa vuoi dire? Perché è proprio il Milan, Mattia e tutte le altre squadre Tottenham, Wolfsburg Ah, già, aspetta! Un saluto che vuoi dire, Roma Cosa non ha funzionato con Garcia, Mattia? Sono contentissimo di questa scelta Sei contento, Tottenham? Come mai non c'è l'obbligo di riscatto? Permesso, permesso Grazie